Gori ed Enti Idrico Campano presenti al Green Med Symposium, un'occasione di dialogo e confronto per Enti Idrico Campano con gli operatori Gori che racconta un bilancio di sostenibilità in termini importanti, un lavoro minuzioso fatto di risultati e azioni che hanno un legame con il territorio in un'ottica di sostenibilità. Il Green Med Symposium per essere presenti e raccontare il nostro bilancio di sostenibilità. Insieme ad Enti Idrico quest'anno siamo presenti con tutti i gestori della regione Campania e Gori in particolare sta raccontando alle persone che stiamo incontrando il nostro bilancio di sostenibilità. Quest'anno abbiamo chiuso il bilancio che è partito dal 2018 raccontando tutti i grandi risultati e i grandi obiettivi che abbiamo portato avanti in termini di riduzione delle perdite idriche, in termini di miglioramento del processo di depurazione, in termini di efficientamento energetico. Tutte le azioni che quotidianamente compiamo hanno al centro della nostra azione benefici che devono essere impattanti per il territorio e per l'utenza che gestiamo. Il bilancio di sostenibilità redatto da Gori per il quinto anno consecutivo rappresenta in effetti innanzitutto uno strumento di trasparenza e di condivisione, perché è stato elaborato per i nostri stakeholder, ma soprattutto insieme ai nostri stakeholder. Nel bilancio del 2023 noi ci siamo concentrati su quelle che abbiamo chiamato le nostre radici, ma non solo come ci insegna la filosofia greca intesa come gli elementi primordiali della natura su cui investire tutte le nostre azioni e le nostre energie, ma anche e soprattutto come legame con il territorio, come legame inscindibile con il nostro territorio e il territorio in cui operiamo. Il Green Mail Symposium rappresenta oggi proprio un'occasione di dialogo e di confronto con gli operatori economici e sociali della nostra regione che si occupano della sostenibilità ad ampio raggio. Grazie a tutti.